salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutorial mi scusate oggi non sto registrando dallo schermo ma sto lavorando su un portatile che mi hanno portato e volevo parlarvi di un problema che spesso accade su windows ovvero come potete vedere qua in basso non abbiamo più l'icona del wifi e della rete per ripristinarla è molto semplice dovete aprire il registro di sistema facendo molto semplicemente da start scrivete regedit e vi comparirà questo editor del registro di sistema andate su questa cartella o meglio su questa directory lunga alla fine andate nella cartella tra i notify e vedrete che ci sono due icone pasti con stream e con stream cancellate le tutte e due bene e ora ho riavviato il computer o come farò io chiuderò il processo explorer e lo riaprirò e noteremo che avremo di nuovo l'icona della rete facciamo la prova ok via gestione attività processi explorer eccolo qui termina ok ora nuova attività explorer voilà aspettiamo ed ora come potremmo vedere qua in basso abbiamo nuovamente l'icona del wifi bene ragazzi per questo video tutorial è tutto mi faceva piacere farvi vedere questa cosa perché spesso l'ho incontrato in vari computer e spesso vari utenti non sapevano come risolvere spero che vi sia stata d'aiuto un saluto e al prossimo video